Che gigione il supersonico all'Ampis oggi qui a Pugno Chiuso, l'iniziativa il Sottosopra e nell'ambito del Sottosopra c'è anche il torneo di calcetto. Di che si tratta? Come funziona? Il torneo di calcetto organizzato dall'Ampis, che è un'associazione sportiva che si occupa di difendere i diritti delle persone più deboli, anche ingranando più nell'ambito sportivo per far sì che ogni persona tiri fuori le proprie capacità, ogni individuo tiri fuori le proprie risorse. Adesso stiamo in uno dell'associazione 180 amici, io sono momentaneamente uscito perché purtroppo stavo giocando un po' maligno non stavo tanto in forma, ma sono cose che capitano, non ci rifaremo, mi riprenderò. Adesso la nostra squadra, la 180 amici purtroppo sta perdendo, però mai dire mai, non si può mai sapere abbiamo ancora qualche partita da fare prima di rientrare a casa. E poi anche se dovessimo perdere pazienza, si gioca per pure spirito sportivo, nel frattempo ci facciamo una vacanza e vorrei dire che la prossima volta faremo più allenamento magari, dai. Da dove vieni? Noi veniamo dall'Aquila, in Abruzzo. Sei mai stato prima qui a Pugno Chiuso in Puglia? No, in Puglia sono stato altre volte a Viesta, però qui a Pugno Chiuso mai. Ti piace? Mi piace, mi piace, mi piace molto. Grazie. Grazie.